www.consegnointrentino.provincia.tn.it è la piattaforma web che dà visibilità a tutte le imprese che consegnano a domicilio e offre ai cittadini una vetrina per soddisfare le proprie necessità senza muoversi da casa. L'iscrizione al sito per le imprese è libera e gratuita. I nuclei familiari in difficoltà economica per l'emergenza Covid-19 possono richiedere il bonus alimentare attivato dalla provincia con i comuni, le comunità di valle ed il consorzio dei comuni trentini. Il valore del bonus varia in base al numero delle persone che compongono il nucleo familiare, 40 euro a settimana per una persona, 60 euro per due persone, 80 euro per tre persone e 100 euro per quattro persone e più. Per richiederlo si deve compilare il modulo sul sito della provincia. E a proposito di spesa, anche Etica consegnerà ai più fragili pacchi alimentari e beni di prima necessità per l'emergenza coronavirus. Il progetto, sostenuto dalla provincia, prevede che le comunità di valle segnalino i casi di necessità e la distribuzione avvenga attraverso reti di consegna presidiate dalle istituzioni locali. Etica è l'iniziativa luce gas della cooperazione con Dolomiti Energia, cui hanno aderito 53.000 trentini. Sono diverse le regole per la raccolta dei rifiuti a causa del coronavirus. Le persone in quarantena o positive al virus che stanno a casa non devono fare la raccolta differenziata. Per il ritiro devono contattare chi gestisce la raccolta. Devono collocare tutti i rifiuti in due o tre sacchetti, uno dentro l'altro, da depositare nel contenitore per la raccolta indifferenziata. Grazie per la visione!